Buongiorno a tutti ragazzi della comunità artistico, allora riprendiamo in questa terza video lezione il discorso sulla natura in dannunzio e in particolar modo in questo contenuto andiamo a leggere a commentare La pioggia nel pineto. Un testo tratto da Alcione, questo è il titolo della raccolta poetica, ma in realtà ecco diciamo che il progetto poetico di dannunzio complessivo si intitolava Laudi. Ho già detto nella precedente video lezione che trovate un paio di pagine sul vostro manuale, sul volume 3A, dedicato appunto a queste Laudi. Il titolo Laudi era quindi il titolo complessivo di un grande ciclo poematico che doveva comporsi di sette parti o sette libri, ciascuno delle quali parti aveva come titolo il nome di una stella, delle Pleiadi in particolar modo. Alcione è la terza parte di questo grande ciclo pubblicato nel 1903 e appunto come ho già anticipato nella precedente video lezione si tratta del diario di un'estate. Considerato sostanzialmente Alcione è il capolavoro poetico di dannunzio e più che altro anche la raccolta in cui è più evidente il decadentismo e il simbolismo decadente di questo autore. Le poesie in totale raccolte in Alcione sono 88 e l'ordine compositivo suggerisce appunto l'arco di una stagione estiva, è come se fosse appunto il diario di un'estate. In particolare forse l'estate del 1902, anche se c'è da dire che noi sappiamo molte poesie scritte dall'annunzio e finite in Alcione erano state scritte anche prima, è già dal 1899. Comunque la cosa che più importa appunto è che questa raccolta è come se fosse il diario di un'estate, quindi si segue un ordine compositivo che va da giugno a settembre. E perché proprio l'estate? Perché l'estate è presa come simbolo di una stagione della vita del poeta, che è la giovinezza. E quindi non è soltanto, va bene, un diario poetico che parla di una vacanza estiva, ma in realtà l'estate, nell'ideologia decadente, simbolista di dannunzio, L'estate è la stagione in cui sembra che l'umano possa fondersi con il naturale, illusione che poi viene sconfessata ovviamente dall'arrivo dell'autunno, che segna il tramonto dell'illusione, e Alcione comprende alla fine, ovviamente, anche poesie dedicate alla fine dell'estate, in particolar modo al mese di settembre. Però la pioggia del pineto, che noi adesso andiamo a leggere invece, è ambientata nel centro, diciamo, dell'estate, è ambientata nel mese di luglio, quando appunto si raggiunge l'apice di questa fusione tra uomo e natura, il panismo. Tra l'altro, noi sappiamo che il titolo provvisorio di questa poesia non era la pioggia del pineto, ma era Ermione. Vedremo infatti che nel testo compare una figura femminile, con questo nome Ermione, con il nome mitologico, era una figlia, scusate, una donna ovviamente, figlia di Menelao ed Elena, ma dietro questa figura mitologica si cela sicuramente la figura di Eleonora Duse. Abbiamo detto nella precedente video-lezione, qui questa poesia venne scritta velocemente nel 2, poi viene pubblicata nel 3, come tutta la raccolta d'Alcione, e quindi erano gli anni in cui D'Annunzio ancora stava frequentando, era insieme a questa attrice di teatro molto famosa dell'epoca. Poi in realtà la storia sarebbe finita di lì a poco, nel 4, e infatti vedremo che da alcuni versi, anche di questa poesia, capiamo che la loro storia d'amore era ormai probabilmente al tramonto. L'ambientazione è pineto, cos'è sto pineto? È una pineta, ovviamente, della Versilia, perché, appunto, ricordiamoci che D'Annunzio e Eleonora Duse vivevano stabilmente sulle colline di Firenze, nella villa detta La Capponcina, e poi d'estate in realtà avevano un'altra villa, per non farsi mancare nulla, sul mare, più direttamente sul mare, in Versilia, quindi sulla costa settentrionale della Toscana. Sono in riva al mare, questa è la scena, diciamo, di ispirazione, sono in riva al mare, inizia a piovere, e la pioggia estiva, anzitutto, ha il potere, ovviamente, di portare nella calura estiva il fresco, e quindi il rinnovamento della vita. Infatti, sotto le gocce della pioggia, D'Annunzio, che cade sulla pineta, D'Annunzio inizia a sentire una sorta di sinfonia, una sinfonia boschiva, dovuta a queste gocce di pioggia, che cadono con ritmo diseguale, e come innumerevoli dita suonano gli strumenti, che sarebbero le varie piante su cui le gocce cadono. Quindi, questo è un primo tema importantissimo della poesia, questa sinfonia boschiva, dovuta alle gocce, e che ci fa capire come la musica, ecco, sia un elemento dominante in questa poesia. La musica, in particolar modo, perché, già per gli antichi, era ciò che riusciva a condurre l'uomo a una sorta di ebrezza, in cui ritrovava la comunione con il mondo naturale, con la sua vita potente. Quindi è per questo che la musica, questa sinfonia boschiva, è il primo tema che dobbiamo ricordarci, ma che poi vedremo, ecco, leggendo il testo, un tema che permea tutta la poesia. La musica come strumento, ecco, per il panismo, per riavvicinare l'uomo al mondo naturale e alla sua vita potente. Un secondo tema è la metamorfosi panica, che significa il fatto, appunto, che il poeta e la sua compagna, Ermione, si trasformano gradualmente, nel corso della poesia, in elementi naturali, e anche in questo ha un ruolo importante la pioggia, che sembra quasi un solvente, no? Che quindi scioglie nella natura volti e mani del poeta e anche di Ermione. E poi ci sarà un terzo tema, altrettanto comunque importante, anche se non c'entra tanto col panismo, che è il tema dell'amore. L'amore come illusione, diciamo che la sinfonia boschiva, di cui si diceva prima, no? La musicalità che traspare da questa poesia, ma che l'annunzio dice di aver sentito, no? Durante questa pioggia, ha una sua funzione anche per l'amore, nel senso che sembra ristabilire, questa sinfonia, l'armonia tra il poeta e la sua donna, anche se solo per la durata di un temporale. E, ripeto, leggendo capiremo cosa vuol dire questo, l'amore come illusione e in che senso, ecco, questa musica della pioggia del Pineto, ha ristabilito, anche se solo per poco tempo, questo amore illusorio che stava tramontando. Quindi iniziamo pure a leggere. Quindi, poesia ambientata in Bersiglia, ripeto, fa caldo perché siamo nel luglio, probabilmente dell'anno 1902, ma a un certo punto ecco che arriva un temporale. I due si trovano in riva al mare, ma ecco, non proprio sulla spiaggia, non proprio sulla battigia, su una pinetta, ma a distanza molto ridotta dal mare. Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove, che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse. Piove sulle tamerici salmastre d'arse. Piove sui pini scagliosi ed irti. Piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti. E qui attenzione che continua la strofa, vedete che arriva praticamente fino al verso... No, qui ci ha saltato, attenzione, è saltato un pezzetto. Bisogna andare di qua. Allora, la prima strofa, comunque come vedete, arriva fino al verso 32. Vediamo di allargare qui perché se no non si legge niente. Allora, ecco, così è più chiaro. Quindi piove sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti. E poi passiamo di qua. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o ermione. Allora, prima strofa, 32 versi, vedremo che le strofe in totale sono quattro. Notiamo subito, beh, questo è un passaggio ovviamente, sono passati tanti anni da Leopardi, non siamo più davanti a degli endecasillabi sciolti, ma siamo davanti a un metro sostanzialmente libero. Anche se poi d'annunzio predilige soprattutto novenari, senari, ternari, anche versi molto brevi, avete visto, verso 15, no? Costituiti da una sola parola. Quindi, metrica libera, anche se le strofe poi sono quattro e sono tutte di 32 versi. Ecco, quello sì. Però, poi, ogni verso ha una misura variabile. Allora, come avrete notato, il senso non è difficile, quindi è una poesia che si lascia leggere abbastanza facilmente. Taci, quindi l'invito del poeta, rivolto alla sua donna, a tacere. Perché? Perché ora bisogna ascoltare questa sinfonia boschiva, la voce della natura. Quindi, ecco, subito si apre con il silenzio questa poesia. tacendo, mentre entrano nel bosco, il poeta e la sua donna abbandonano le parole, no? Che sono... La parola è l'espressione tipica dell'essere umano e devono invece aprirsi ad ascoltare il linguaggio musicale della natura. Quindi, sulle soglie del bosco io non odo parole che dici umane, ecco, ma odo parole più nuove, che parlano gocciole e foglie lontane. Ecco, nell'ambito del simbolismo decadente di D'Annunzio, che cosa notiamo? Notiamo, anzitutto, la presenza di frequentissime personificazioni e sinestesie. Allora, una sinestesia è subito al verso 6, quando dice, appunto, odo parole più nuove, che parlano gocciole e foglie lontane. È una sinestesia perché si associa l'udito, noi possiamo soltanto udire, no? Le parole, qualcuno parlare, con le gocciole, che invece fanno riferimento al senso della vista. E poi c'è anche una personificazione, perché cosa sono queste parole del verso 5? Sono le gocce, appunto. E più in generale, più che le gocce, diciamo i rumori della natura, ecco, che però non sono parole. La parola, tecnicamente, è tipica soltanto dell'essere umano. Quindi notiamo subito una personificazione, ma ce ne saranno tantissime nel corso di questa poesia. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arse. E qui, vabbè, ci sarebbe anche, ma non stiamo a soffermarci, ci sarebbe da notare anche i tantissimi giochi fonetici, rime e assonanze, sulla base delle quali è costruita tutta questa poesia. Piove dalle nuvole sparse vuol dire, no, che ovviamente è la tipica pioggia estiva, quindi una pioggia leggera, da una nuvolaglia non compatta. E piove sulle tamerici salmastre d'arse, cioè piove sulle tamerici degli arbusti sempreverdi. È una pianta tipica della macchia mediterranea. Queste tamerici sono salmastre, cioè coperte di salsedine e arse inaridite, un aggettivo che ci fa capire che siamo appunto nel pieno dell'estate, a luglio. Ma la pioggia, appunto, cadendo su questa natura che sembra quasi assopita, bruciata, permetterà alla natura di rinnovarsi, anche se solo per la durata di un temporale. Piove sui pini scagliosi ed irti, cioè sui pini squamosi, un riferimento alla corteccia del pino, e irti, pungenti. Piove sui mirti divini. Perché sono definiti divini mirti? E addirittura d'annunzio isola questo oggettivo in un solo verso di appena tre sillabe. Perché secondo il mito, il mirto era una pianta sacra a venere. Ecco. Sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, cioè piove sulle ginestre, altra pianta tipica della macchina mediterranea, splendenti, fulgenti vuol dire splendenti, di fiori accolti, cioè di fiori raccolti amazzi. Piove sui ginepri folti di coccole ulenti, cioè piove sui ginepri carichi di bacche, coccole sarebbero le bacche, aulenti, profumate. Piove sui nostri volti silvani. E anche qui attenzione al fatto che l'aggettivo silvani è isolato, in un verso a sé, di soli tre sillabi, un ternario. Perché ha voluto isolare questo aggettivo d'annunzio? Perché siamo già qui davanti a una prima metamorfosi, no, del poeta e della sua amata, infatti dice nostri, nostri volti silvani. I volti di Ermione del poeta a poco a poco perdono le sembianze umane per diventare parte del bosco. Silvani vuol dire i nostri volti che già stanno assumendo le sembianze del bosco, della selva. Quindi siamo davanti al primo passaggio di questa grandiosa metamorfosi panica cantata in questa poesia. Piove sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella. Cioè, piove, ecco, sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti leggeri, beh, perché appunto siamo nel pieno dell'estate. Piove anche sui puri pensieri che l'anima rinnovata schiude, fa nascere. E piove sulla favola bella che ieri ti illuse e che oggi mi ludio dormione. Al verso 29 una metafora. La favola bella è l'amore. L'amore come favola in questa cornice magica del bosco oppresso prima dalla colore estiva, ma ora rinnovato dalla pioggia. L'amore quindi come un incantesimo che però probabilmente finirà una volta che il poeta e la sua amata saranno tornati nel mondo reale. La favola bella che ieri ti illuse e che oggi mi ludio dormione. Attenzione all'uso dei tempi verbali. Illuse passo premotto riferito a te, dormione. Illude presente riferito a me, poeta. Dobbiamo prestare molta attenzione perché alla fine questi versi saranno ripetuti della poesia, ma con un cambiamento, cioè con un'inversione ai tempi verbali. L'illuse sarà riferito al poeta e l'illude al presente sarà riferito a dormione. Che cosa ci vuol dire questo? Che appunto, secondo D'Annunzio, l'amore è un'eterna illusione ed è cangiante, no? Cambia da un giorno all'altro come la pioggia. Quindi l'amore è soltanto, ecco, un momento provvisore, un'illusione provvisoria all'interno della realtà che fluisce perennemente e poi ritorna ciclicamente su se stessa. Ma ecco, la cosa che più conta, ma lo vedremo ecco poi proseguendo con la lettura, l'amore come illusione, ecco che è, diciamo, un terzo tema comunque importante della poesia, anche se c'entra, non c'entra tanto col tema della natura, oltre al tema della musicalità, che invece abbiamo spiegato come mai c'entra con la natura, e al tema della metamorfosi, panica. Seconda strofa. Odi? Ancora una volta la strofa si apre con un verbo che fa riferimento scusate alla dimensione dell'udito e al silenzio umano perché bisogna aprire l'ascolto al linguaggio della natura. La pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le frode più rade men rade. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale che il pianto australe non impaura né il ciel cinerino e il pino ha un suono e il mirto altro suono e il ginepro altro ancora strumenti diversi sotto innumerevoli dita immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre o creature terrestre che hai nome Ermione. Seconda strofa sempre 32 versi ripetiamo l'unico dato diciamo metrico che si ripete nel corso di questo componimento la pioggia cade sulla solitaria verdura cioè sulla vegetazione deserta ancora una volta un aggettivo che fa riferimento al fatto che siamo nel pieno dell'estate e appunto la calura ha diciamo sottratto vita ecco al paesaggio della Versilia però questa pioggia che cade per un momento almeno rinnova la vita della natura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde più rade men rade il crepitio lo scroscio della pioggia che dura che perdura ma varia secondo le fronde più rade men rade che significa questo scroscio il suono cambia a seconda che le fronde degli alberi siano più fitte o meno fitte perché in un caso le gocce cadono sui rami altrimenti cadono sul terreno e quindi i suoni sono diversi ascolta risponde al pianto il canto dell'ecicale altra personificazione perché la personificazione è una figura molto cara ai decadenti soprattutto quando si tratta di dover cantare il mito del panismo è perché ovviamente la personificazione fa in modo che elementi naturali si umanizzino il pianto qui sarebbe il lamento della pioggia che è paragonato un pianto perché la pioggia è acqua quindi quest'acqua che cade richiama le lacrime che cadono quindi avremo abbiamo già visto un paio di esempi di personificazioni cioè i suoni della pioggia che cade prima erano paragonati alle parole qui adesso ha un pianto e poi vedremo ovviamente fa da contraltare a tutto questo invece la vegetalizzazione dell'umano ma sono due aspetti come dire complementari entrambi concorrono a descrivere questo grandioso mito panico del questo mito del panismo appunto celebrato da dannunzio e dai decadenti quindi risponde al pianto il canto delle cicale quindi ecco che al rumore della pioggia si assomma adesso un altro rumore le cicale che cantano che il pianto australe non impaura cioè le cicale continuano a cantare non sono spaventate da questo pianto cioè da questa pioggia australe che significa una pioggia procurata generata dai venti di scirocco che soffiando da sud avevano portato questo temporale sulla versiglia né il cielo cinerino e neppure il cielo plumbeo scuro spaventano le cicale che continuano a cantare e il pino un suono e il mirto altro suono e il ginepro altro ancora ecco che questi versi rendono al meglio direi la sinfonia boschiva di cui abbiamo parlato per introdurre questa poesia no la sinfonia boschiva la musica è il tema preponderante di questa poesia e qui davvero no le piante sono paragonate a degli strumenti lo dice proprio strumenti diversi sotto innumerevoli dita ed ecco un'altra ennesima personificazione la pioggia adesso non sono più parole non è più un lamento sono delle dita le gocce di pioggia sono delle dita che suonano questi diversi strumenti e il tutto concorre a una grandiosa sinfonia boschiva il pino un suono il mirto un altro suono il ginepro altro ancora e immersi noi siamo nello spirito silvestre ecco il panismo molto chiaro direi no noi ora siamo immersi nella natura del bosco questo vuol dire nello spirito silvestre silvestre da arborea vita viventi e in questo momento viviamo una vita simile a quella degli alberi secondo passaggio dunque della metamorfosi il primo passaggio l'abbiamo visto al verso 21 qui dal verso 52 al verso 55 il secondo passaggio di questa metamorfosi con il poeta che dice noi cioè io e te ermione ormai siamo immersi nella natura del bosco siamo usciti dalla nostra dimensione fisica per entrare in quella naturale e stiamo iniziando una metamorfosi un dissolvimento nella natura e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia qui invece c'è il ricorso a una similitudine il tuo volto ebro cioè euforico ecco il panismo la questa possibilità di fondersi con la natura porta all'esaltazione porta l'euforia quindi il tuo volto euforico è molle bagnato di pioggia come una foglia similitudine ma in cui notiamo che il secondo termine di paragone è un elemento naturale e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre e le tue chiome cioè i tuoi capelli profumano come delle luminose ginestre o creatura terrestre che è in nome ermione terzo passaggio della metamorfosi qui riferita in particolar modo solo alla donna cioè ermione che viene definita creatura terrestre cioè significa creatura generata dalla terra come una pianta e ermione si sta si sta trasformando in una pianta ecco perché il suo volto è come una foglia e le chiome cioè i capelli iniziano a profumare come delle luminose ginestre terza strofa ascolta ascolta notiamo sempre che ogni strofa inizia con un verbo che fa riferimento alla dimensione dell'udito e quindi conseguentemente sono verbi che fanno riferimento alla dover ascoltare la musica della natura l'accordo dell'area ecicale a poco a poco qui dobbiamo girare pagina a poco a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce ma un canto vi si mesce più rocco che di laggiù sale dall'umida ombra remota più sordo e più fioco s'allenta si spegne solo una nota ancor trema si spegne risorge trema si spegne non sode voce del mare or sode su tutta la fronda crociare l'argentia pioggia che monda il crocio che varia secondo la fronda più folta ma infolta ascolta la figlia dell'aria muta ma la figlia del limo lontana la rana canta nell'ombra più fonda chissà dove chissà dove e piove sulle tue ciglia ermione allora siamo alla terza penultima strofa ricordo che sul libro forse prima non l'ho detto ma comunque siamo a pagina 408 la poesia no scusate la poesia inizia a pagina 402 quindi 402 seguenti allora terza strofa ascolta ascolta l'accordo l'accordo dell'erecicale vuol dire il canto all'unisono nell'aria dell'ecicale a poco a poco più sordo si fa cioè diventa poco a poco più basso sotto il pianto che cresce perché cede il rumore al rumore della pioggia il pianto è sempre la pioggia che aumenta di intensità ma un canto vi si mesce più rocco che di laggiù sale ma ecco che un altro suono ora si mescola a questi due un canto un po' più rocco che di laggiù sale che si leva da laggiù dall'umida ombra remota un pronome laggiù molto indefinito è un canto che si leva dall'umida ombra remota dalla lontana e umida oscurità quindi è un suono che arriva diciamo dall'orizzonte visivo e anche sonoro del poeta dal profondo della pineta e vedremo che questo canto è il canto delle rane quindi diciamo che si unisce dopo il suono della pioggia al suono delle cicale il suono del canto delle rane più sordo e più fioco salenta si spegne cioè sempre diminuisce sempre di più diventa sempre più flebile e più basso il canto delle cicale finché si spegne solo una nota ancora trema si spegne risorge trema si spegne quindi soltanto una nota ancora vibra questo canto delle cicale poi a un certo punto si spegne non sode voce del mare or sode su tutta la fronda crociare l'argentia pioggia che monda non si sente nessun rumore dal mare anche se la pineta era abbiamo detto a breve distanza ma prevale sui rumori del mare la pioggia argentia che torna a scrociare con violenza su tutta la fronda è una pioggia che monda cioè che purifica che pulisce abbiamo detto di questa pioggia che rinnova riporta la vita in una natura che era stata bruciata dalla calura estiva e il fatto che D'Annunzi utilizzi il verbo mondare al verso 84 nel senso proprio di purificare allude al fatto che questa pioggia estiva è una sorta di battesimo pagano ecco che porta a un rinnovamento il crocio che varia secondo la fronda più folta ma infolta è un crocio che varia di intensità secondo la fronda più folta ma infolta sostanzialmente qui ai versi 86 87 si ripete quanto D'Annunzi aveva già detto ai versi 38 39 ascolta la figlia dell'aria è muta ecco le cicale hanno smesso di cantare no? come aveva detto prima quindi la figlia dell'aria sarebbe la cicala è muta ma la figlia del limo lontana la rana canta nell'ombra più fonda chissà dove chissà dove e quindi al canto della cicala si è sostituita a quello della rana che già era stata allusa questa voce ai versi 71 72 la figlia del limo è appunto cioè del fango è la rana che è lontana dall'orizzonte sonoro cioè dal del poeta e di ermione canta nell'ombra più fonda canta laggiù ecco nel mezzo della pineta lontana dal mare chissà dove chissà dove e piove sulle tue ciglia ermione e l'ultima strofa che adesso andiamo a leggere la pioggia come un solvente dicevamo ecco che scioglie letteralmente ermione e anche il poeta nella natura con ermione che diventerà in questa ultima strofa quasi una sorta di dendriade cioè una ninfa le dendriade erano le ninfe che abitavano nelle piante ma nel senso che erano balzavano fuori no? dalle cortecce delle piante ermione viene descritta proprio in questo modo e quindi ovviamente nella quarta strofa si completa con l'ultimo passaggio la metamorfosi panica che già era iniziata comunque dal verso 21 quindi dalla prima strofa piove sulle tue ciglia nere sì che par tu pianca ma di piacere non bianca ma quasi fatta avirente par da scorza tu esca ecco la pioggia che cade sulle tue ciglia nere tanto che sembra che tu pianga quindi la pioggia è molto fitta cade sul volto e quindi sembrano le gocce di pioggia sembrano delle lacrime ma sono delle lacrime di gioia di piacere non bianca ma quasi fatta avirente tu ermione perdi anche il tuo colorito che ovviamente era bianco no? perché secondo anche diciamo lo stereotipo ma anche i gusti dell'epoca no? la donna doveva essere di carnagione bianca ma non sei più bianca sei diventata quasi verde perché sembra quasi che tu esca da una corteccia ecco che si completa la metamorfosi panica la vegetalizzazione dell'umano perché ermione viene descritta come se balzasse fuori da una corteccia appunto come se fosse una dendriade ecco una di queste minfe che secondo il mito abitavano nei boschi e si fondevano proprio erano diciamo di fatto per metà donne per metà piante e poi balzavano fuori dalle cortecce tutta la vita è in noi fresca ulente il cuore nel petto è come pesca intatta tra le palpebre gli occhi sono come polle tra l'erbe i denti negli alveoli sono come mandorle acerbe e andiamo di fratta in fratta or congiunti or disciolti e il verde vigor rude ci allacci i malleoli ci intrica i ginocchi chissà dove chissà dove e piove sui nostri volti silvani piove sulle nostre mani ignude sui nostri vestimenti leggeri sui freschi pensieri che l'anima schiude novella sulla favola bella che ieri mi illuse che oggi ti illude o ermione e così finisce con questa quarta appunto e ultima strofa la poesia che quindi parte dal verso 97 arriva fino al verso 128 sempre anche l'ultima strofa è di 32 versi tutta la vita è in noi fresca ulente quindi dice tutta la vita in noi è fresca profumata il cuore nel petto è come pesca intatta il nostro cuore nel petto è come una pesca non colta la metamorfosi dell'uomo la vegetalizzazione dell'umano si compie definitivamente qui attraverso una similitudine il cuore come una pesca tra le palpebre gli occhi sono come polle tra l'erbe e gli occhi tra le palpebre sono diventate come delle pozzanghere in mezzo all'erba i denti negli alveoli sono come mandorle acerbe e i denti nelle nostre gengive sono diventate come delle mandorle acerbe quindi tre similitudini in sequenza che ribadiscono il compimento della metamorfosi panica l'uomo si è trasformato nella natura e andiamo di fratta in fratta or congiunti or disciolti i due manti quindi la conclusione è dedicata in realtà all'amore in questa poesia perché noi andiamo di fratta in fratta or congiunti or disciolti cioè talora uniti forse perché si prendono per mano talora disciolti talora separati e il verde vigor rude ci allaccima i malleoli ci intrica i ginocchi e la forza selvaggia degli arbusti del verde ci allaccia i malleoli ci avvingia le caviglie e ci intrica i ginocchi ci impiglia i ginocchi chissà dove chissà dove quindi la metamorfosi si compie anche perché diciamo dai versi 112 114 c'è un chiaro riferimento a una ultra classica metamorfosi del mito quella di Daphne che si trasforma proprio in all'oro e si trasforma gradualmente con un passaggio graduale per sfuggire alle grinfie di Apollo così raccontava il mito e qui è un po' la stessa immagine con il poeta e l'amata che si muovono ormai liberi talora liberi talora in realtà ancora uniti all'interno della pineta ma ormai sono parte di questa natura tanto che appunto le caviglie iniziano a diciamo sono avvinghiate dagli arbusti e quindi sembra quasi si trasformino in piante e piove sui nostri volti silvani piove sulle nostre mani nude praticamente gli ultimi versi della poesia ripetono esattamente i versi dal 20 al 32 quindi la conclusione dell'ultima strofa è praticamente identica alla conclusione della prima strofa ma con una differenza la conclusione vera e propria gli ultimi due versi dove come abbiamo già anticipato appunto questo mi illuse oggi mi illude mi illuse oggi ti illude è cambiato rispetto alla prima strofa nella prima strofa il passatore motore è riferito alla donna ermione qui è riferito al poeta cosa significa questo ora è ermione a vivere l'amore come illusione mentre il poeta se ne è distaccato quindi si conferma il fatto che l'amore è una bella favola ecco è una eterna illusione l'incantesimo della pioggia ha permesso forse per un momento di ristabilire questa illusione ma in realtà l'amore tra i due era ormai al tramonto e con questa conclusione tra l'altro D'Annunzio ci vuole dire che la storia verosimilmente infatti questo lo sappiamo la storia d'amore finì per volontà di D'Annunzio che non era più innamorato è per questo che conclude con il passato remoto riferito a se stesso e non riferito alla donna bene ovviamente la poesia era abbastanza complicata nel senso ci sono tanti spunti di riflessione spero di averli spiegati abbastanza in modo abbastanza chiaro ovviamente prendete anche visione e sarà da studiare il commento che avete sul vostro libro ecco a pagina no qui le pagine non coincidono il commento sul vostro libro l'avete a pagina 405 e quindi poi ecco proseguiremo nella prossima video lezione con il secondo testo di D'Annunzio dedicato al tema della natura vedremo però con una prospettiva un po' diversa nel senso che qui è esaltata certo la natura con il concetto del panismo ma la natura senza la presenza diciamo l'uomo la natura nella sua componente diciamo più primigenia D'Annunzio vedremo però si dedica dedica anche un testo magari non molto famoso lo dedica diciamo alla natura così come è stata stravolta dall'uomo quindi la natura che diventa artificio dedica in particolar modo una poesia alle città alle città del novecento che lui vede le città contemporanee come erano state stravolte dall'essere umano e quindi è un testo molto interessante che voglio leggere per ecco sempre sul tema della natura per leggere un'altra faccia di D'Annunzio e dell'idea che lui aveva della natura cioè che quando la natura viene intaccata comunque dall'essere umano cambia completamente i propri connotati bene ringrazio per l'attenzione dunque alla prossima sempre su questo canale ringrazio per l'attenzione ringrazio per l'attenzione ringrazio per l'attenzione ringrazio per l'attenzione